I dati sull'incidenza di tumori in provincia di Pavia lasciano pochi spazi ai dubbi, siamo al quarto posto in Italia e buona parte della colpa, secondo gli scienziati, è dell'inquinamento dell'aria. Eppure in molti casi, spiegano i medici, le diagnosi precoci potrebbero salvare molte vite. Per questo i mesi di ottobre e novembre, come ogni anno, sono dedicati alla prevenzione di alcuni fra i mali più diffusi come il tumore al seno o quello alla prostata, mentre enti e fondazioni benefiche, come l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, continuano a raccogliere fondi da destinare alla ricerca. Diverse le iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza anche sul territorio, come quelle in programma a mercoledì prossimo a Torrazza Coste, dove medici e chirurghi provenienti da diversi ospedali della provincia di Pavia e Cremona faranno il punto sul tumore del seno, un male che oggi ha alte aspettative di guarigione, l'88% delle diagnosi nel 2021, ma che vista la sua ampissima diffusione con 55.000 nuove diagnosi soltanto lo scorso anno a livello nazionale, ha provocato ben 12.500 decessi. Innanzitutto devo ringraziare il sindaco Pruzzi per questa iniziativa a favore delle donne dalla sua comunità. Noi ci siamo impegnati, ambedue, nella ricerca di dati, in modo tale da poter offrire alle persone, a tutta la nostra comunità, un valore aggiunto e un aiuto per la prevenzione. Noi ci inseriamo nella campagna nastro rosa dovuto ad un'intuizione di Estée Lauder che ha iniziato questa campagna nel 1992 e ad ora, nel giro di 30 anni, le donne che fanno prevenzione sono aumentate e è aumentata anche la percentuale di guarigione. Infatti, a cinque anni dalla diagnosi si è passati dal 78 all'88% di guarigione. Certamente, diciamo, la pandemia ha giocato un ruolo negativo perché su cinque donne una non ha avuto la possibilità di accedere alle cure. è fondamentale, diciamo, il rapporto diretto, la visita e la telemedicina è solo un aiuto. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere a tutte le donne l'utilità della prevenzione.